Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulle prime conoscenze dei poligoni oggi andremo a vedere che cos'è un poligono. Quindi l'obiettivo della lezione di oggi sarà appunto dare una definizione di poligono, andare a vedere quali sono le diverse parti che compongono un poligono e concluderemo andando a vedere qual è la differenza tra poligoni concavi e poligoni convessi. Nella precedente unità, sugli angoli diretti del piano, abbiamo visto diversi tipi di linee. Abbiamo cominciato con linee curve e abbiamo definito la differenza tra linee curve aperte e chiuse oppure semplici e intrecciate. Poi abbiamo visto il caso delle linee spezzate, ovvero delle linee formate da segmenti consecutivi che a loro volta si potevano classificare tra spezzate, aperte e chiuse, spezzate, semplici e intrecciate. E da qui ripartiamo per definire che cos'è un poligono. Perché appunto un poligono noi lo definiremo come la porzione di piano, quindi appunto il poligono è una figura piana delimitata da una linea spezzata, chiusa, semplice. Quindi in questo disegno la linea spezzata, chiusa, semplice a cui vi faccio riferimento è questa linea nera. E la linea stessa e la porzione di piano al suo interno costituiscono il nostro poligono. In particolare questo è un poligono noto come pentagono. E allora andiamo a vedere alcune delle parti di questo pentagono. a cominciare da i suoi lati. Quindi ciascuno dei segmenti che compongono questa linea spezzata, chiusa, semplice, sono chiamati lati del poligono. Gli estremi in comune tra questi segmenti vengono chiamati vertici. e poi andremo a vedere anche gli angoli di questi poligoni in particolare. Gli angoli all'interno del nostro poligono vengono chiamati appunto angoli interni. Ma per ora ci soffermiamo sui lati e sui vertici. Ora un primo esercizio per voi. Come vedete in questa pagina ci sono diverse figure piane. Ok? Ora tenendo presente la definizione di poligono che abbiamo visto pochi secondi fa, dovreste essere in grado di dire quale o quali di queste figure sono poligoni e quali no. Ma la cosa più importante è che dovreste essere in grado di dirmi perché alcune di queste figure sono poligoni e altre non lo sono. Allora in questo momento vi chiederei di mettere in pausa il video, ragionare un attimo sulla base della definizione che avete visto prima e quindi in base a quello definire quali di queste figure piane sono poligoni, quali non lo sono e soprattutto perché. Andiamo a vedere quale di questi sono poligoni. Sono poligoni in particolare A, B, L, M, G e H. Tutte le altre figure piane che vedete qui non sono poligoni. I motivi sono variati. Per esempio E, D ed F sono delle linee curve. O è una linea mistilinia, cioè parte curva e parte dritta. C è una linea spezzata, ma è una linea spezzata aperta. I è una linea spezzata chiusa, ma è intrecciata. N è sia aperta che intrecciata. Ecco, una definizione importante, una distinzione importante che dobbiamo fare nel caso dei poligoni è tra poligoni convessi e poligoni concavi. Ecco, questa è una definizione che dobbiamo scriverci. Quindi, un poligono si dice convesso se non contiene alcun, cioè proprio nessuno dei prolungamenti dei suoi lati. E poi vedremo tra pochi secondi cosa significa l'atto pratico. E concavo invece se contiene i prolungamenti di alcuni dei suoi lati. Quindi abbiamo poligoni che possono essere o convessi o concavi. Vi anticipo che poi nel proseguo noi andremo a studiare quasi esclusivamente poligoni convessi. Per capire meglio la definizione che vi ho data pochi secondi fa, andiamo a vedere un esempio. Quindi qui abbiamo due poligoni. Su questo siamo d'accordo perché sono entrambe linee spezzate, semplici, chiuse. Però uno di questi poligoni è convesso e l'altro è concavo. Allora, vediamo di ricordarci cosa significa la definizione. La definizione dice che non contiene nessuno dei prolungamenti dei suoi lati. Cosa sono questi prolungamenti? Allora, armiamoci di righello, no? E consideriamo per esempio questo lato qui, va bene? Vediamo di orientarlo un po' meglio. Ecco qui. Cosa sono i prolungamenti dei suoi lati? Praticamente io appoggiando il righello su questo lato del poligono lo vado a continuare, no? Alla sua destra, alla sua sinistra. E vedete, queste linee tratteggiate che ho disegnato sono i prolungamenti. E questi prolungamenti, almeno di questo lato, cascano fuori dal poligono. Posso provare un altro lato, che so, questo lato qui. Poi lascio a voi l'esercizio di provarlo con tutti i lati del poligono. E di nuovo, i prolungamenti di questo lato cascano fuori dal poligono. Ripetendo questo processo con tutti i lati, a questo punto posso dire che questo poligono in particolare è convesso. Andiamo a vedere l'altro. E quindi a questo punto già visivamente potete capire di cosa stiamo parlando. Per esempio, se io scegliessi questo lato qui, no? Del nostro poligono, disegno i suoi prolungamenti e vedo, ah ok, anche questi cascano fuori dal poligono. Quindi, ah, forse anche questo è convesso. Ma tuttavia, se andassi a vedere invece quest'altro lato, e disegnassi i suoi prolungamenti, questo prolungamento cade fuori, ma questo si trova all'interno del poligono. E lo stesso varrà anche per uno dei prolungamenti di questo lato. Quindi questo poligono non è convesso, ma è concavo. Ora, una volta vista questa cosa, è abbastanza evidente capire come posso distinguere un poligono convesso da uno concavo. Essenzialmente uno concavo è uno che ha delle rientranze, no? Delle cavità, come dice proprio il nome. Quindi, d'ora in poi dovrebbe essere facile per voi distinguere immediatamente la differenza tra un poligono convesso e uno concavo, senza dover fare tutta questa storia del prolungamento dei lati. E concludiamo la lezione di oggi andando a vedere, quindi, mettendo alla prova la nostra comprensione del concetto di poligoni convessi e concavi. Quindi, a questo punto, in questo slide, voi vedete una serie di poligoni. Questi sono tutti poligoni, ok? Ma, basandoci sulla definizione e sull'esempio di prima, dovreste essere in grado ora di dire al volo quale di questi sono convessi, quali concavi e di nuovo perché. A questo punto, in nuovo, vi consiglio di mettere in pausa il video, provare da soli a rispondere e poi rifar partire il video, così vi dirò quali sono le risposte. Ecco, a questo punto possiamo dire la soluzione. I poligoni convessi sono C, D, G, F, I ed E. Quindi, questi sono i poligoni convessi. Tutti gli altri sono concavi e lo potete vedere facilmente perché, insomma, in tutti questi casi sono delle rientranze, quindi in tutti questi casi ho i prolungamenti di almeno uno dei lati che entrano dentro il poligono, tipo qui, qua dentro e qua dentro. Bene, nelle prossime lezioni esploreremo ultimamente il mondo dei poligoni, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.